Polly Only Polly Transforms your day into a world of adventure Polly Only Polly Best day ever Polly Only Polly World of adventure Best day ever Just at Polly L'avventura di oggi è fare il giro del mondo in 80 minuti! Pilato automatico, tocca a te! Penso che dovremo tornare subito a terra Prima che sia troppo tardi È già troppo tardi! Ecco e sta la linea di partenza! Fantastico! Kirsti, vai con l'orologio! Via! Aggrappatevi, ragazzi! Possiamo cadere? No, il pilato automatico crede che sia un temporale E sta solo cercando di evitare i lampi Forse! Forse può fare il giro del mondo in 80 minuti così! Dobbiamo rimettere la barra di nuovo sul pilato automatico Forse riuscirò a raggiungerla da qui! Su, lanciate le vostre scarpe! S'accordo! Uno, due, tre! Scarpe? Oh, ok! Buon costo! Mi piace male! Bello e buono! C'è ancora tempo per recuperare e girare intorno al mondo in 80 minuti! Livello minimo di carburante! Allacciate le cinture per l'atterraggio! Oh, sì, davvero bello! Ma come è potuto succedere? È stata tutta colpa di quella barra di comando che... Polly, fermati! Hai appena girato intorno al Polo Nord! Questo tecnicamente significa che hai appena girato intorno al mondo... In 80 secondi! L'avventura di oggi è girare intorno al mondo!